A Di Maro è caccia all'autografo e abbiamo capito il perché. Non si tratta solo di passione, i collezionisti lo sanno, gli scarabocchi dei calciatori hanno anche un valore economico. Basta andare su ebay per rendersene conto, il tariffario è pubblicato. Nel Napoli di oggi la firma di Cavani vale 100 euro, quella di Marekamsik 80. Inler si attesta sui 50 euro, lo stesso vale un Paolo Cannavaro. Ci sono collezionisti disposti anche a comprargli gli autografi, ma vedere un tifoso avvicinarsi e chiederti di firmare uno scudetto non ha prezzo. Ci sono cose che non si possono comprare, per tutto il resto c'è la passione.